Il vecchio il mare, capolavoro, un capolavoro, poi film del 58 con il grande Spencer Tracy, un film concentrato proprio su una persona, su Spencer Tracy, concentrato su una persona e su un pesce. Questo è un film tratto da un romanzo di Hemingway, il vecchio il mare, parla di questo pescatore ormai anziano che ha fatto la sua vita, che negli ultimi anni della sua vita si sente un po' oppresso dalla sfortuna perché non pesca più come prima. Lui aveva un aiutante, un ragazzino, Manolo, che ama star con lui però la famiglia lo indirizza verso un'altra nave, un'altra barca, altri pescatori perché teme che con il vecchio Santiago questo è il nome del protagonista, non possa imparare, non possa crescere, essendo ormai anziano e non pescando più niente. Un bel giorno però il vecchio si alza all'alba e sente che può essere la sua giornata fortunata. I pescatori sentono questo, i pescatori amano il mare, sono tutt'uno col mare, con gli elementi della natura e sanno capire e sanno decifrare i segnali, i segnali che vengono mandati, che la natura manda. Allora, va per mare, fra l'altro in questo film c'è una stupenda fotografia, sembra un quadro dipinto, bello una cosa molto lirica. Va in mare e pesca, pesca, getta con un filo, un'esca e aspetta. Improvvisamente, dopo un po' di tempo, sento un grande strattone e ha attaccato un pesce, nel film viene chiamato pesce. In realtà si vede un marlin, un marlin qui ambientato a Cuba. Il marlin è un tipico pesce molto bello, velocissimo, tipico pesce che viene pescato con le cosette pesche d'altura, con i turisti che vanno a fare i turisti in queste isole, vanno fuori, pescano e pescano soprattutto i marlin. Sono dei pesci enormi, ricordano il pesce spada ma non sono come il pesce spada perché hanno uno spadino molto piccolo. Però sono molto belli, hanno questa caratteristica che quando sono allamati, loro saltano fuori dall'acqua e con la coda camminano praticamente sull'acqua, no? Sono molto particolari, molto scenografici. Allora questo vecchio prende questo pesce e inizia una lotta, una lotta per cercare di tenerlo, una lotta per non perderlo, una lotta di lui contro questo pesce che non rappresenta neanche più un pesce, rappresenta qualcosa da raggiungere, una meta da non perdere, quello che dà ancora un significato alla sua esistenza e uno si, anche quando alla fine dell'età, si aggrappa alla vita perché vuole vivere ancora. Ecco, questo pesce è quella cosa che dà significato all'esistenza di Santiago e non lo vuole perdere. Lui gli parla, no? Mentre questo pesce, ci sono in questi tre giorni dei momenti in cui dà strattoni, dei momenti di calma in cui il pesce è calma. Lui parla a questo pesce come se fosse un fratello, come se fosse un padre, come se fosse la sua anima, a fare riflessioni sulla sua vita. E alla fine, dopo tre giorni di frequentazione di questo pesce, riesce veramente a tirarlo vicino alla barca, a spegnere ogni speranza, ogni forza di questo pesce a prenderlo, di questo marlin. Un pesce enorme, un pesce che lo ripaga Santiago di tanto tempo, di tanta pesca a vuoto, di tanti momenti duri, di tristezza, in cui uno perde fiducia in se stesso. Lo prende e lo lega alla barca per portarlo appunto, per tornare a casa, alla sua isola, e mostrare, no? Mostrare che lui è stato ancora capace di fare una grande impresa, di prendere il grande marlin. Però purtroppo la vita tante volte è dura, ci riserva momenti difficili anche quando uno pensa ad avere raggiunto uno scopo, però viene sempre in qualche modo, purtroppo è così, ci sono troppi fattori imponderabili negativi nella vita, in quanto questo marlin, che ormai era stato issato, diventa oggetto di desiderio degli squali che infestano l'oceano. Allora c'è un primo squalo che addenta il pesce e comincia a distruggere la carcassa e Santiago, e poi un altro, Santiago comincia a combattere contro questi squali, lancia una fiocina, li prende aremate perché non vuole che distruggano tutto il frutto della sua fatica, però in vano, perché il corpo ormai sbrindellato a brandelli del grande marlin, continua a perdere sangue, il sangue è un richiamo, un richiamo troppo forte per gli altri squali, riescono a percepire a chilometri di distanza, si dice, quando una goccia di sangue nel mare vengono e un'orda famelica di squali banchettano intorno a questo marlin, Santiago non può fare niente, non si può combattere contro così tanti nemici e mangiano tutto il pesce, rimane soltanto uno scheletro. A questo punto Santiago non rimane che tornare a casa, però rimane questo scheletro, questo marlin, che comunque sta a testimoniare la grandezza del pesce che aveva attaccato, che aveva preso, e lui è stanco, Manolo li va incontro, lo rincuora, lo porta a casa, lo mette a letto e Santiago sogna, sogni di una persona, sogna la sua vita, sogna altri mondi, sogna le sue esperienze passate, sogna quando era giovane, quando era forte, quando il mondo era più bello forse, perché si è giovani e forti, sogna di altri mondi, sogna di animali, di altri mondi, di cose che sono anche frutto della fantasia, ma che sono belle, perché ce le rendono pure, e lui sogna, sogna, è bello, questo vecchio che sogna, che ha vissuto bene la sua vita, dedicato al suo lavoro, in modo onesto, allora non può fare dei bei sogni, che lo possono riconciliare, che lo possono connettere con Dio, sogna, sogna e si sveglia da questo sogno, e da questo sonno, dopo un giorno intero di fatiche, con le mani tutte lacerate, perché ha tenuto in mano questa lenza, che veniva stratonata da questo male, e per questo l'ha distrutto, l'ha distrutto, però va a trovarlo un ragazzino, ma no, lo che gli dice che, ancora vuole pescare con lui, vuole pescare insieme, che ha, di non essere depresso, di non essere triste, perché hanno ancora tanto da fare, l'anima, possono andare ancora insieme per il mare, e l'anima di Santiago, trasmicherà in quella di Manolo, per continuare questa tradizione di pescatori, pescatori sognatori, pescatori puri, di un mondo puro, è un grande film, incentrato su un solo attore, Spencer Tracy, grande, magnifico, perfetto nella parte, meritava un Oscar, è stato candidato, come, miglioratore protagonista, non l'ha vinto, sono quei casi della vita, in cui, non so, uno dice perché, Spencer Tracy, fra l'altro, aveva vinto già, due Oscar consecutivi, come migliore protagonista, nel 38, e nel 39, con la città dei ragazzi, nel 38, e nel 39, con Capitani Coraggiosi, film stupendi, soprattutto Capitani Coraggiosi, sempre ambientato nel mare, consiglio sempre di vederli, e, qui non ha vinto, per me ha vinto, alla grande, e, un grande applauso, anche, un applauso, anche alla voce narrante, del film, che è del grande Gino Cervi, il nostro immenso attore, è perfetto, e allora, per chi ama il mare, come me, per chi ama l'avventura, per chi ama a sognare, per chi ama i pesci, per chi ama comunicare, con un altro mondo, per chi ama vedere, i cieli azzurri, o anche il tramonto, di una sera, per chi è felice, soltanto, di queste cose, che sono le più importanti, e per vedere, gli splendidi, dialoghi, di, di Spencer Tracy, che parla col pesce, che parla con la vita, che parla con se stesso, che, è psicologo di se stesso, guardatevi il vecchio il mare, vi sentirete meglio, è una funzione, terapeutica, sul nostro animo, è bello, un bel film, peccato, che non si facciano più, di questi film, poetico, c'è solo una violenza, che è quella della natura, quindi una non violenza, perché è una cosa naturale, non è quella umana, violenza degli squali, che distruggono questo pesce, guardate questo film, del 58, bisognerebbe riguardarlo sempre, fatelo vedere, ai vostri bambini, se li avete, e leggete anche il libro di Hemingway, un grandissimo scrittore, che amava il mare, morto tragicamente, suicida, però, grande scrittore, grande uomo, e, per conoscere meglio, anche una parte, di noi stessi, per capire veramente, quello che vale nella vita, di noi stessi,